Altre quattro ufficializzazioni ed altre sono previste in giornata. Il Barletta raggiunge la doppia cifra in termini di calciatori contrattualizzati. L'ultima raffica di firme ha riguardato gli attaccanti Nicola Di Francesco e Giuseppe Sguera. I terzini entrambi, Iugnores, Rinaldo Piazzolla e Rocco Di Pinto. Doppia novità d'esperienza dunque per il reparto avanzato di Francesco, 31 Enri Cerignola. E Reduce, da una stagione molto positiva al corato in promozione, Sguera, dopo la parentesi al Montevarchi, avrà la possibilità di giocare per la prima volta con la maglia della sua città. È di Barletta ed è cresciuto nel settore giovanile bianco-rosso invece Rinaldo Piazzolla, terzino mancino, classe 96, stesso anno di nascita di Rocco Di Pinto, che agirà sulla corsia opposta. A rinforzare ulteriormente il reparto avanzato saranno l'esperto Ladogana, che si sta allenando con il gruppo in pratica dall'inizio della preparazione, e il giovane Gadaleta, ex Biceglie. Al termine della seconda settimana di lavoro, intanto il tecnico Massimo Pizzulli, si mostra soddisfatto e fiducioso. Posso essere soddisfatto perché comunque la squadra sta avendo ormai una propria identità, si sta lavorando anche fisicamente, abbiamo qualche problema sugli under, abbiamo qualche problemino sul, lo sapevamo insomma, per reclutare giocatori, però stiamo riuscendo pian piano a fare una squadra che ci permetta di partire e di giocarcela a viso aperto con tutti, con tutte le difficoltà che potremmo avere inizialmente. Oggi la ripresa dei lavori dopo una domenica di relax si comincia a ragionare in funzione dell'esordio stagionale in Coppa Italia di Lettanti la competizione al Via Domenica Prossima che mette in palio una promozione in Serie D attraverso un percorso nazionale. Sempre oggi infine parte la campagna abbonamenti. Sarà possibile sottoscrivere le tessere a partire da stasera, dalle ore 17 alle 20.30, presso la sede di Piazza Conte Duca.